Raga, io non ce la faccio, raga, io non ce la faccio ogni volta che giochiamo contro il Verona a fare ste figure di merda che noi non riusciamo più a giocare, a giocare come dobbiamo fare noi ogni volta che facciamo, che dominiamo, non ce la mentalità, avete capito che non ce la mentalità per pareggiare contro il Verona, in nove uomini il Verona riesce comunque a pareggiare e abbiamo avuto pure la fortuna di beccare due pali, uno con Mertens, è nato con Osine, no io non ce la posso fare che ogni volta che giochiamo contro il Verona dobbiamo sempre che ha sto cazzo di macello io non ce la faccio, sul primo gol di Simeone che ha fatto è stato recuperato da Ragmani ma cosa cazzo ha fatto Ragmani, raga, io non ce la faccio, una a una è finita raga, basta, io sono scioccato, cioè guardate, il Verona non ha la volta che ci ha fatto festa, non ha la volta in nove uomini, allora, che vi tolgo di ragazzi, il primo gol l'abbiamo fatto, l'hanno fatto ma lui si è fatto saltare come un birillo da Baracca, ma non si può anticipare e Simeone fa l'1-0 poi il gol, il primo e l'altro guardiamo più al perculo, perché ha fatto una papara a Montipò con Di Lorenzo che ha tirato ha fatto 1-1 e però che vi devo parlare, che vi devo parlare, non devo parlare di un cavolo perché Osimena ha piato un palo, Mertens ha piato un palo non c'è stata partita, lo volete capire che non c'è stata partita perché ogni volta che giochiamo contro il Verona deve sempre andare a finire così pure la scorsa partita che ci mancavano la Champions perché Pedania l'ha buttato di pochi millimetri ma sempre l'ultimo minuto l'aveva pigliata, si è fatto anticipare all'ultimo il difensore, altrimenti avevamo vinto 2-1 a quasi 5 secondi dalla fine non c'è stata partita, ci sono stati espulsi pure Bess e Kalinic ciao